e lì c'è pure non mi ricordo contro qui lì c'è pure bello l'unica a bisare la spezia no? ho vinto ho vinto 7-1 5-1 o 7-1 mi ricordo ha segnato pure Maldini sta cosa mi sa di autogufata lascia perdere che l'anno scorso noi io ne ho beccato 6 almeno dai vado io in ordine Antonio Antonio dal basso verso l'altro ma andiamo con squadra per squadra per tutti o tutta la classifica? squadra per squadra per ognuno a ventesimo posto chi mettiamo? ventesimo lì c'è ok è capito allora le ultime tre la ventesa una 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 cremonese chi? cremonese cremonese ah perché ha dono in evidenza perché c'è scritto tutto no vai vai ora no chi c'è bombe cremonese scrivo cremo cremo lecce Alex ma stanno a fare cremonese lecce qui io dico la cremonese però ho ascoltato l'intervista dell'allenatore che ha detto i miei figli mi hanno detto che sui social mi danno pespacciato addio addettura che molese ok adesso cosa fanno il contrario chi l'ha detto uno dice l'altro bravo hai ragione lecce lecce ragazzi siamo seri ma siamo seri ci sono seri che va allora ci mettiamo così nome del socio si interscambia bomb bigara tu che dici poi anche bombe giusto qua che c'ho il dito sulla L dipende magari se ne vedi qualcun altro bomber quella c'è dalla prossima è difficile salernitana mazzù 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 ma metti uguale perché è quella che volevo dire si salernitana salernitana ma di sì ci piace vedere le tue squadre del sud eh Alex Alex adesso ne tira fuori in alto Roma Roma Lazio indeciso perché no no mi dissi sono indeciso poi allora io dovrei mettere questa qui e quell'altra lì dai metti il lecce lì va metti il lecce lì va Antonio ultima retrocessa ultima retrocessa del prossimo campionato cioè del prossimo di questo campionato Antonio Empoli mazzù sontuoso mi sono perso Empoli doc io lo so ma doc si è perso le lettere vai vai voi andate che io mi ricordo ah Empoli anch'io no siete d'accordo su una cosa ma è una cosa d'accordo Bigala no Bomber no Bomber perché t'ha fatto Bomber a te non lo vuole Borretto eh non lo so Torino minchia minchia occhio Bomber che qua a fine stagione vuoi io voglio Juric a fine stagione Juric Spezia lo spezia poi lo lascio poi lo metto bene io io sono indeciso io metto lo spezia no però lo sai l'Empoli magari nella chat ditici la vostra ragazzi nonostante scrivete in chat la classifica vostra se ce l'hai già pronto dimmi che lo scrivi io ti dico ultima giornata si giocherà la salvezza tra Empoli e Salernitana ultima giornata secondo me retrocede l'Empoli è partito male l'Empoli con Zanetti secondo me non mi è piaciuto in Coppa Italia e per fortuna quando ho rete io a Empoli tutta la guardia ma io lo voglio già dire Gesù Cristo volevo metterlo penultimo l'Empoli Salernitana guarda sono indeciso fra Spezia e Salernitana che poi lì nelle ultime zone sono sempre quelle le squadre però che poi lo Spezia bene o male non so ma qualcosa a me piace lo Spezia c'è gotti c'è gotti c'è gotti c'è gotti c'è totti gotti ah gotti c'è totti guarda io ti dico Bologna minchia cazzo Bologna che Spezia Spezia ma una domanda allora allora che volevo è Cremonese tu il Cremonese tu il Cremonese la vedi così in alto si salva mi metto un po' di qua mi scordo le squadre io posso dirti posso dirti che vi sorprenderà tutti quanti Verona guarda lo sai che l'avevo pensato anch'io ma un po' più altino vai un po' Spezia Spezia Rocco Salernitana Salernitana bombe legge eccolo se l'aveva dimenticato l'Empoli l'Empoli io ci metto la Sampdor con Gianpaolo è sempre un pericolo derby della lanterna in B io ci metterei la Salernitana un momento Verona 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 Tocco anche io vedo la Sampdorio anche io vedo la Sampdorio a chi nessuno ha detto Sampdorio no no l'ha detto prima Toc prima la sedicese bombe 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 frizzato si Sampdorio Sampdorio Antone Bologna Bologna Rocco Spezia Spezia Bombe Udinese minchia ma ogni volta che vuole mettere la squadra me la prendi anche tu Udinese si Udinese io ci metto lo Spezia Alex anche io lo Spezia ma non è una copia oh io 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 Vagrex e Rocco ho tutte e tre Spezia con Tocchi non do mori per il bello eh Sampdorio 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 minchia la vedi così in alto Rocco Torino Pazzo c'è anche il Torino c'è anche il Torino non si è scordato proprio Bomber Verona Verona Vigala Torino Torino mi sa anche sai cos'è il Torino il Torino è proprio Yuri ce l'ho mandato sì Yuri però l'ho messo tutta però l'ho messo tutta quindi Torino Alex Bologna 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 Sassuolo Minchia Sassuolo Rocco Pugnese Pugnese Bomber Bologna 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 Vigala ho messo Virona Virona no Verona io ci metto Bologna pure io qua Alex Vai ci metto pure L'Udinese L'Udinese Stiamo arrivando quasi a metà classifica che cazzo che cazzo che cazzo ti rimasso il Monza aspetta aspetta se Udinese vai Udinese Udinese sai cos'è del Monza che mi frega quello del cazzo il Monza non è perché ha fatto schifo da voi vuol dire che farà schifo pure lì capito però Monza Monza Bigala Bologna Bologna supera 10 mettere in Genova ah no non sta in serie a Genova quasi si può romana ti fa forse la Roma no metto il Sassuolo Sassuolo quanto decimo posto metà classifica Berescon Monza obiettivo giusto giusto Rocco allora il Verona hai così fiducia quest'anno è il Verona non è c'era fiducia l'ho dimenticata e non l'ho messo nel gioco vuoi che ti stupisco io punto in un giovane quest'anno e l'Empoli arriverà decima con Satriano Capo Empoli decima Vigala cosa mi è rimasto il Verona ho messo Sassuolo io ci metto chi è rimasto chi cazzo è rimasto a parte Inter Milan Juve io furbamente i miei me li ho segnati chi manca scusa Alex ti manca il Monza mi sono scordata si il Monza poi il Monza manca il Monza e poi il Big no il Big sono 8 no sono 8 il Big ma chi cazzo si hanno fatto i due il Torino il Torino 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 subito dopo puoi mettere il Monza sopra puoi mettere il Monza do fiducia nel Condor Torino si si Torino Torino fiducia nel Condor però sassuolo 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 se non vende però ti manca se non vende se non vende non ti sa ricorda che ho perso contro Modena sassuolo guarda che ha detto Antonio che le amichevoli non contano niente chi ti manca te Big per me è Fiorentina Fiorentina mazzo no no neanche in Europa neanche in Europa si neanche in Europa non ci arriva vai entro prima e otto maronna mia aspetta qua è difficile diciamo ma seria diciamo dico anche l'Atalantia maronna però il mio cuore dice altro capisci bomba sono deciso difficile qua è già confederation no no anche io di Catalanca Catalanca figala eh il Monza un regalino a mamma che mi sta trompendo il cazzo il Monza arriva ottava il Monza arriva ottava il Monza arriva ottava ah quindi ti hai messo non alla Fiorentina ah eh sì tu ce l'hai già Alex no no sono sono fiducioso che arriva no no non ce l'ho mette come gli altri dice la Fiorentina la Fiorentina metto anche io Adalanta perché non c'è la Fiorentina però fa la coppa eh che stanno è per quello l'ho messo sì come adesso proprio non arriva no forza Lazio Lazio Rocco Rocco lecce Lazio Lazio in conferenza Fiorentina ad hoc Fiorentina bombe Fiorentina 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 Bigara Lazio Lazio io ci metto Adalanta questo è conference sì in conferenza questo è conference sì io in conference ci metto la Lazio Lazio vai Anto Europa League League Pro Fiorentina Fiorentina Europa League Rocco Rocco Lazio bombe bombe è Napoli Napoli Dicala Atalanta minchia io ci metto Lazio e Alex io Fiorentina minchia sesta no mai non ce la fanno mai dire mai sempre Europa League però quinto posto attenzione attenzione va giù qualsiasi cosa succede adesso qualsiasi cosa succede mi saponderò dicendo Roma Juentus no così proprio così la butta Antonio Rocco te l'ha detto ha risposto andiamo però le robe brutte le ha costitato il cuore adesso bomber Lazio Lazio mi sono Napoli io potrei sorprendere perché c'è qualcosa che bolla in pentola Roma ma per mettere Roma e vai a parola tu ma io dico Milan minchia bravo magari magari quanto diciamo un quarto posto Napoli vai Napoli la faccia di Rocco ciao maronna guarda io ho i dubbi tra Roma e Milan addirittura eh perché guarda io ti dico la Roma solo sull'area dell'adduciarmo poi qualche calciatore il Milan perché ha fatto un calciomercato un po' 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 guarda non lo so io la metta la pari Roma Milan sceglie Roma però dico alla pari vabbè a me mi sta bene bascato in Champions Roma 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 io dico Napoli Napoli ha più uno sul Milan in Champions scrivilo pure più uno scrivilo questo è un bonus per il prossimo non so l'indovine Milan inchia scudetto scudetto è sparito è detto bombe Juventus guarda i miei dubbi sono anche la Juventus che la Juventus non ci sono tanti dubbi perché noi diciamo certezze però poi magari a fine mercato rivediamo la classifica sì sì perché la Juventus secondo me non c'è niente possiamo fare alla fine del mercato cosa abbiamo visto cosa abbiamo visto già avremmo giocato due tre partite sì sì riconfermiamo ad esempio la classifica oppure cambiamo qualcosa per confermare o ribaltare però però dopo metterai la prima classifica e la seconda non buttarla la prima tu Vax ce l'hai già pronto e se Vax è deciso tra due sono deciso tra tre io dico Roma 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 sopra il mien di due posizioni minchia mettiamo Juve io vabbè la classifica bianche siamo invencitora o Roma Roma è seconda secondo me vale posso scrivere con una mano guarda io ho sbagliato a fare conti che secondo me io vedo la Juventus la vedo anche sotto al Milan e alla Roma e ora rimane la Juventus dico Juventus però secondo me non dico proprio sotto 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 ma ha quasi a lavare perché la Juventus quest'anno non mi dice proprio niente diciamo che il secondo il terzo e il quarto posto secondo me se la giocano alla parte vado via cioè doc a parola e dirà a Milan eh a bombe oh bombe a parola il Pisa gioca buonasera buonasera signor Bomber buonasera Milan ma te l'ha detto Milan Milan quindi l'ha detto prima io dai Monza seconda ah non sapevo Monza seconda Inter eh ma Alex però sai che c'è ragione io sono un po' condivido il parere di Rocco perché la Juventus magari sai abbiamo esaltato all'inizio però poi magari potrebbe distruggersi come Samarone boh io ti posso dire al momento come ho messo la classifica seconda Juve ma Inter però se la Juventus rimane quella da destra non si migliora io dico che secondo me finisce in Europa League vabbè adesso andate a sapere sono l'unico esattamente come l'anno scorso l'anno scorso è l'unico a dire che noi possiamo vincere la Camerata primo posto siamo quasi tutti d'accordo ma guarda io c'è io c'ho il dubbio con la Juventus una cosa esagerata io c'ho il dubbio con il Milan e con la Juve ma dubbi nel senso capisci la Juventus rimane quello che è adesso ma comunque per te la Roma è sempre sopra ma io posso dirti che la Juventus l'anno scorso è arrivata in Champions perché la Roma ha fatto schifo la Lazio ha fatto schifo che se con le due la Tanta è collata se no quel cazzo che sarebbe andato in Champions la Juve quindi potrebbe essere sì l'abbiamo detto prima l'anno prima perché Napoli non voleva andare in Champions con Gattuso hanno perso la prima partita l'hanno regalata così l'anno scorso non c'è nascuno io ti dico che il quarto posto se la giocano proprio Napoli e Juventus e quest'anno la mamma andrà in Europa League io mi faccio tutte le grattate di questo mondo non so mai già l'anno scorso penso io e da quando è iniziata la classifica che mi gratto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti